Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, oggi consueta pedonalizzazione festiva per via dei fori imperiali con la deviazione delle linee di bus lì normalmente in transito a Porta Portese, c'è il mercato con la deviazione delle linee 170, 719 e 781, i dettagli su romamobilita.it. Rete tram nel quartiere Parioli, lavori di rinnovo dei binari su Viale Rossini, da domani il cantiere si sposterà a Piazza Ungheria, è su bus il servizio della linea 2, per quel che riguarda invece la 3, viaggia su bus tra Porta Maggiore e Valle Giulia e su tram tra Porta Maggiore e Stazione Trastevere, la linea 19 è su tram tra Centocelle e Porta Maggiore e su bus tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!